21 progetti, 206 imprese coinvolte, 1 milione e 300 mila euro di contributi a fondo perduto. Sono questi i numeri del bando che la Regione Marche finanzia per quello che riguarda i centri commerciali naturali della Regione Marche. 21 progetti per 21 comuni, quelli che sono stati presentati qui all'hotel San Susi di Gabice Mare, hotel in cui il Vice Presidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ha radunato 21 tra sindaci e amministratori dei territori che rappresentano i progetti finanziati. Tutti i progetti sono stati appunto accettati da questo bando, un bando che significa come la Regione creda in questa formula di investimento. Piuttosto che il centro commerciale in senso stretto, si punta a creare nelle aree urbane un'unione tra associazioni pubbliche e private in aree omogenee che possono fungere appunto da centri commerciali naturali. Il centro commerciale naturale rappresenta sicuramente un ottimo veicolo per riqualificare i nostri centri storici, soprattutto riqualificarli in un'ottica di collaborazione tra il comune e l'imprenditore, il privato, il commerciante, l'artigiano. Quindi credo che è stata una bella scelta quella della Giunta, a Quaroli dell'assessorato che ha collaborato con me in questa cosa e dal dottor Tallarico perché abbiamo trovato le risorse per finanziare tutti i progetti, cosa che non era mai avvenuta, facendo in modo che quella progettualità non andasse dispersa. Inoltre si prepariamo per il prossimo anno a fare un ulteriore bando, ancora più importante come numeri, cercando di farlo diventare sempre più strategico. Vorremmo cioè che diventasse sempre più importante fare la sinergia e riqualificare i nostri centri commerciali naturali perché se vogliamo creare un'offerta turistica non può prescindere dal fatto che camminando nel selciato di un centro storico il turista ma anche il cliente, l'avventore, torni ad abituarsi ad entrare nelle botteghe, nei negozi, trovi un decoro urbano particolarmente qualificato. Questo è fondamentale, è la base da cui partire per il rilancio della nostra terra. È un progetto su cui ci abbiamo creduto molto e ci fa piacere che la Regione abbia voluto investire e trovare altre risorse perché ci ha permesso di essere tutti sostenuti, quindi tutti i 21 progetti che hanno partecipato al bando otterranno questo finanziamento. Nel nostro caso abbiamo scelto il borgo di Gabbicemonte come centro commerciale naturale su cui andremo a fare complessivamente insieme a 6 imprese coinvolte 140.000 euro di investimenti di cui appunto 70 sarà poi il contributo della Regione. È un'azione importante che fa capire che in sinergia si possono ottenere dei risultati che vanno nella direzione di sostenere l'economia, il commercio e quindi anche il turismo.